ciao a tutti sono massimo foglia di zeigos oggi vorrei parlare di questo titolo unicredit di nuova emissione it 000 558 3643 questa è la scheda che è scaricabile dall'area riservata di fineco mettendo l'aisin si vede il dettaglio di tutta l'anagrafica i flussi di cassa stimati e così via perché dico stimati sono stimati perché le cedole funzionano in questo modo dal primo anno quindi da subito fino al terzo anno compreso quindi 2024-2027 la cedola è fissa e pari al 7,7% dopodiché il titolo pagherà l'Euribor a tre mesi c'è un tetto massimo 7,7 però plausibilmente non si arriverà mai a quel tetto quindi pagherà l'Euribor a tre mesi che cosa dice questa scheda informativa questa scheda informativa dice che il rendimento del titolo è pari al 5,03% lordo e che questo titolo quota ad uno spread di 229 punti base sulla curva EURIRS vediamo perché questi numeri non sono veri non sono veri e quindi occorre ragionare con cognizione di causa quando si decide di comprare o meno questo titolo ho preparato un file excel in cui ho messo tutti i flussi di cassa del titolo quindi abbiamo l'uscita di cassa questo titolo si può comprare a 100 quindi al prezzo di emissione fino al primo marzo quindi dal 19 febbraio fino al primo marzo questo titolo è acquistabile al prezzo di emissione 100 poi quindi si paga 100 è un'uscita quindi segno meno poi 19 febbraio 2025 7,7% di cedola la cedola annuale quindi ogni anno così per tre anni dopodiché Euribor a tre mesi perché questa differenza tra il valore che risulta a me e il valore inserito nella scheda nella scheda informativa viene inserito il valore dell'Euribor a tre mesi osservato oggi per la precisione la chiusura di due giorni fa del 20 febbraio quindi l'Euribor al 20 febbraio era 3,943% e quindi questo valore è rimasto cioè si ipotizza che rimanga stabile per tutto il periodo quindi fino alla fine dei tempi diciamo fino alla scadenza del titolo 2037 ma così non dice la curva attuale la curva attuale è questa questa evidenziata in blu quindi abbiamo i tassi Euribor che arrivano fino all'anno prossimi al 4% poi iniziano i tassi swap i tassi di mercato swap che vanno a decrescere dal 3,7% circa fino al decennale che è intorno al 2,70% ok quindi la curva si appartisce in modo dolce dopo sostanzialmente dopo il quarto anno quindi dal terzo quarto anno in poi la curva si appartisce quindi l'Euribor a tre mesi che la curva sta prevedendo oggi e su cui bisogna fare i conti è un Euribor più basso di quello osservato oggi che è come dicevo come dicevo poco fa pari al 3,943% allora come si fa il calcolo di questi tassi Euribor impliciti allora fino all'anno come dicevamo ci sono i tassi Euribor quindi se io osservo la curva Eurirs oggi vedo che fino a un anno ho i tassi in capitalizzazione semplice sono gli Euribor ok quindi abbiamo l'Euribor a un mese, tre mesi, sei mesi, nove mesi e un anno e così via da un anno in poi abbiamo i tassi swap i tassi swap sono i tassi fissi di contratti swap i contratti swap praticamente scambiano l'Euribor a tre o sei mesi contro un tasso fisso quindi in sostanza quel tasso swap detto anche tasso Eurirs non è altro che l'aspettativa media del mercato su futuri tassi variabili perché praticamente quel tasso fisso reputato equivalente con una serie di tassi variabili quindi una volta che io ho questi dati di mercato devo fare un'operazione che non è molto banale cioè devo fare il bootstrap cioè trovare quei tassi zero coupon i tassi zero coupon sono quei tassi che non prevedono cedole intermedie sono quei tassi con cui si sconta un flusso futuro ad oggi ad una certa data quindi il tasso zero coupon a un anno è quel tasso che sconta e flussa un anno il tasso zero coupon a cinque anni è quel tasso che sconta quel flusso a cinque anni che non prevede flussi intermedi da qui a cinque anni quindi con questa operazione si estraggono i tassi spot detti anche i tassi zero coupon e dai tassi spot si enucleano i tassi forward a tre o sei mesi nel nostro caso quello che interessa è il tasso euribor a tre mesi che si osserverà rispettivamente il 19.2.2027 perché è in quella data che verrà stabilita la cedola per il 19.2.2028 il 19.2.2028 si dovrà osservare il tasso forward a tre mesi che sarà la cedola che verrà pagata il 19 febbraio 2029 con questo ragionamento si ottengono questi tassi questi sono i tassi forward a tre mesi osservati un anno prima il pagamento perché il tasso diciamo di una cedola a tasso variabile di una cedola variabile si osserva alla data di godimento che sarebbe diciamo il giorno in cui inizia il periodo di maturazione degli interessi quindi questo 2.5.4.9% è il tasso che si è osservato come dicevamo il 19.2.2027 è un tasso ovviamente totalmente incerto ma che la curva attuale sta scontando perché bisogna utilizzare questo tasso e non il valore dell'Euribor a tre mesi osservato oggi perché semplicemente se il mercato quotasse quel tasso Euribor osservato oggi sorgerebbero opportunità di arbitraggio ok quindi è possibile fare soldi a rischio zero cosa in un ambiente competitivo come i mercati finanziari non è assolutamente possibile e quindi il mercato per forza deve quotare quella cedola variabile in funzione del tasso variabile scontato oggi dalla curva osservata oggi e non in funzione di quel parametro preso come riferimento osservato oggi ok questo è il punto fondamentale allora vediamo quali sono i valori di rendimento e di spread osservati con questi tassi quindi tassi corretti dicevamo allora sostanzialmente per avere il prezzo a 100 io devo avere uno spread di 134 circa punti base sulla curva Euribor il tasso interno di rendimento è pari al 4,10% allora la formuletta per calcolare il tasso interno di rendimento è semplicemente quella del calcolo dell'IRR quindi si mettono sostanzialmente come input il flusso in uscita meno 100 dicevamo e tutti i flussi cedolari e il rimborsa a scadenza come segno con segno positivo e si ottiene questo valore 4,10% che è ben diverso dal valore che ricordiamo 5,3% che risulta dalla scheda che trovate su internet nello specifico nella sezione riservata di Fineco quindi 5,03 contro 4,10 è una bella differenza lo spread sulla curva Euribor qua è 2,29 e quindi con sostanzialmente 100 punti base in meno ci torna che lo spread effettivo che sostanzialmente si blocca comprando il titolo a 100 oggi è 134 punti base confrontiamo questo titolo con un titolo che possiamo trovare nella nostra Bond Selection Plus è un servizio che fa una selezione e un'analisi di rischio rendimento di titoli di diversi comparti quindi governativi euro, corporate retail istituzionali in euro governativi non euro, corporate retail istituzionali in dollari troviamo i Bond Unicredit quindi andiamo su i corporate retail per esempio vediamo se c'è qualche emissione Unicredit c'è qualche emissione Unicredit che scada al massimo fino a 2027 andiamo a cercare se ci sono emissioni più lunghe su gli istituzionali eccoci qua Unicredit questa è un'emissione che scade il 18 gennaio 2032 paga una cedola di 1,625% è un'obbligazione a tasso fisso semplice quindi è uno standard a tasso fisso il taglio minimo 100.000 euro ecco qua questo Bond quota un yield ask allora cosa sono i yield bid e i yield ask? sono i tassi interni di rendimento associati al prezzo bid e al prezzo ask siccome c'è sempre una forchetta tra i due prezzi se io devo vendere vendo a un tasso di rendimento più alto rispetto a quando devo comprare perché quando compro pago un prezzo più elevato in questo caso la forchetta è ampia circa 66 centesimi quindi abbiamo 387,375 ok quindi nel 2032 il titolo Unicredit che paga una cedola di 1,625 ha un tasso interno di rendimento di 3,75% quindi sarebbe con una curva così piatta che abbiamo visto va a andare praticamente ad avere un valore medesimo diciamo dal terzo quarto anno in poi sarebbe alquanto strano che un titolo di nuova emissione possa quotare 5% ok anche se ha una vita più lunga di 4 anni lo spread ecco andiamo a vedere questo titolo l'ho immesso diciamo come secondo bond sotto quindi in questo caso ho messo il prezzo ask 85,65 più il ratio di interessi perché in questo caso non è una nuova emissione quindi io sto in mezzo a due date diciamo di pagamento cedola questi sono i flussi futuri e così via ottengo un tasso diciamo uno spread sulla curva EURS di 103 punti base ok quindi aggiungendo alla curva base EURS 103 punti base ottengo lo stesso prezzo che sta quotando il mercato quindi è ragionevole che un titolo che ha una vita più lunga di 5 anni quoti ad uno spread più alto ma non il doppio del dello spread incorporato nel nel titolo che scade nel 2032 ok quindi sostanzialmente immaginate così cioè lo spread è associato a rischio emittente mentre la curva EURS sconta diciamo i flussi futuri come se non ci fosse rischio emittente il rischio emittente aumenta in modo marginalmente sempre di più all'allungarsi la scadenza quindi in sostanza l'incertezza che c'è su unicredit unicredit da qui a un anno è inferiore mediamente a quella che c'è sul titolo su un bond unicredit da qui a due anni ok mediamente questo perché è più incerto quello che succede tra un anno e due anni rispetto a quello che può succedere tra oggi e un anno e così via andando avanti sempre nel tempo però questa incertezza va ad appiattirsi quindi sostanzialmente marginalmente io mi aspetto che l'incertezza cresca di più quanto più io sono vicino ad oggi ok mentre mi fa poca differenza passare da 10 a 11 anni o da 11 a 12 anni ecco questo in sostanza quello quello che avviene quindi cosa dire confrontare questo titolo con i titoli in circolazione che cosa che cosa possiamo dire possiamo dire innanzitutto che questo titolo è un titolo che cerca di far gola perché paga una cedola molto alta nei primi anni paga una cedola praticamente pari a due volte e mezzo i tassi Euribor che possiamo due volte ecco sostanzialmente due volte i tassi Euribor che possiamo vedere sul mercato ad oggi solo che questo titolo dopo il terzo anno paga l'Euribor a tre mesi quindi un tasso inferiore rispetto a quello che dovrebbe pagare un bond unicredit perché stiamo vedendo i titoli i bond unicredit quotano come giusto che sia a spread sulla curva EurIrs quindi su Euribor sui tassi EurIrs perché appunto è più rischioso ok è più rischioso di un titolo risk free quindi sicuramente questo titolo è destinato ad andare sotto la pari dopo il pagamento della terza cellula ok quindi al 100% questo titolo andrà sotto la pari non è vero il tasso di rendimento che viene mostrato nella scheda informativa circa il 0,3% perché quel tasso ipotizza una cellula variabile corrispondente all'Euribor a tre mesi osservato oggi abbiamo visto che con la curva decrescente che c'è oggi il il tasso Euribor incorporato nell'obbligazione sarebbe ecco andrebbe sostanzialmente a 2,54% 2,70% 2,80% così via nel corso degli anni questo è quello che dice il mercato quindi calcolando con questi tassi variabili corretti il tasso interno di rendimento ottengo un tasso che è circa 100 basis point più basso rispetto a quello indicato nella scheda informativa 4,10% con uno spread sulla curva Euribor pari a 134 punti base tornano i conti con i titoli in circolazione sì perché abbiamo un titolo che scada nel 2032 che paga una cedola bassa quindi quotato sotto la pari per via di questa cedola bassa inferiore ai tassi di mercato questo titolo che scada nel 2032 quindi con prezzi di mercato quota 103 punti base di spread e ci sta questo questo aumento di spread su un aumento di scadenza di 5 anni quindi a partire da 8 anni da oggi fino a 13 anni da oggi quindi 103 punti base contro 134 punti base questo titolo quindi ha un tasso interno di rendimento 375 che si può calcolare quindi senza che una volta che si ha il prezzo si conoscono i flussi di cassa il calcolo del tasso interno di rendimento si può fare con quella formula che ho detto prima quindi la formula del tasso interno di rendimento semplicemente per maggiori informazioni su questo sul file che vi ho fatto vedere la Bon Selection Plus potete inviare un'email a info chiocciolazegos punto com per qualsiasi dubbio domanda su questo titolo di nuova emissione Unicredit scrivete sempre a questo indirizzo e cercheremo di dare una pronta risposta un saluto a tutti e un saluto